salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata nel salotto dello scarabocchiatore questo sarebbe il nostro tea time io sono comunque armato di tazza anche se abbiamo fatto un po più tardi per motivi tecnici sarebbe più una pericina però sempre passare il tempo in compagnia parlando della cosa che preferiamo i fumetti adesso abbiamo con noi un amico un giovanissimo tesserato che ha fatto niente di meno che una graphic novel tutto su qua tutta sua tutto come autore completo lui è leandro caro figlio ciao carissimo ciao a tutti benvenuto nel salotto grazie grazie per leandro nella prima live però qua sta a casa quindi siamo sicuri che si sentirà perfettamente a sovaggio per rompere un po il ghiaccio volevo fare una domanda già iniziata con una domanda difficile carolea ci puoi parlare un po di te come ti è nato quest'amore per i fumetti e come si è arrivato a fare un tuo graphic novel sì ok ci tengo a precisare non sono così giovanissimo sono over 30 quindi non so se posso rientrare nella categoria di entri tranquillamente nelle giovanissime allora in realtà ho cominciato a leggere fumetti cioè in realtà ho cominciato a sfogliare fumetti anche prima di cominciare a leggere perché sì a casa mia praticamente circolava a tex da tutte le parti quindi ho cominciato ad avere interesse per i fumetti guardando i disegni di tex poi sì praticamente a otto anni credo sia otto anni ho cominciato presente copiare i disegni di tex a fare qualche fumetto mio personale semplicemente copiando i disegni perché ovviamente non ero ancora in grado di disegnare però copiavo tutto quello che vedevo e da lì facevo un college di disegni in modo da creare una storia ho fatto così praticamente per diversi anni praticamente disegnavo solo per me stesso creando avventure di tex poi di dirandog e non ho mai frequentato scuole di fumetto ho solo frequentato un corso breve di fumetto comic out con laura scarpa un corso di mi sa tre mesi che è stata una full immersion nel fumetto interrompo solo per dirti che laura scarpe è stata anche nostra ospite sì 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 comic out è una realtà fa anche scuola di fumetto il magazine che ha di poco riproposto e fanno anche dei corsi molto interessanti al quale tu hai partecipato se ho capito bene se non siete interrotto prego volevo solo puntualizzate che laura è un'amica dell'associazione sì certo mi sa di averlo fatto nel 2015 2016 sì quindi ho fatto un corso ti salutano gli amici dove si insomma in questo corso un po un riassunto di un po tutto come fare un fumetto da dalla z però per il resto si diciamo che sono autodidatta quindi sempre disegnato per conto mio ultimamente ho cercato di affinare un po la tecnica del disegno prima di prepararmi alla pubblicazione sì tutto qui in realtà molto molto brevemente una curiosità ma come si parte da autodidatta facendo praticamente degli esercizi grosso modo a voler fare a portare avanti un'intera graphic novel di un centinaio di tavole se ho capito bene cioè qual è il passaggio che ti ha fatto buttare a fare un lavoro estremamente grande e impegnativo non so se tecnicamente si può definire una graphic novel perché sono tre quattro storie brevi quindi in realtà non è un lungo racconto sarebbe ho sempre avuto l'idea di cominciare da storie brevi prima di buttarmi a disegnare un racconto lungo anche come banco di prova insomma prima di per esercitarmi maggiormente avere più confidenza con con il disegno quindi in questo caso si tratta di quattro storie brevi però sì praticamente ho sempre voluto fare fumetti quindi il mio unico problema è che se li ho sempre voluti solo fare per me stesso sempre avuto paura di mostrarli eccetera eccetera quindi è una sicurezza che non è non che l'abbia raggiunta al cento per cento però solo ora mi sono deciso veramente a pubblicare qualcosa di mio e quindi niente ho semplicemente cominciato con le storie brevi ne ho pubblicate diversi in questi quattro cinque anni e quelle che poi ho usato ho scelto per la per l'antologia sono quattro storie brevi che hanno più o meno un denominatore comune quindi ho scelto quelle che mi sembravano più idonea a farne un'antologia è la storia breve di quante tavole ciascuna allora sono in totale quante tavole 100 in realtà sono un po meno di 100 perché poi tra una tra una storia e l'altra c'è una specie di copertina che fa da introduzione ogni storia breve quindi direi in media una ventina trentina di pagine per per storia sì sì e le cose che le accumula tutte e quattro e immagino di essere noir visto che il titolo che non abbiamo detto colpevolmente però è for noir quattro noir che immagino quindi sono tutte storie così ad occhio direi sono tutte storie erotiche giusto? Noir nel senso che sono quel genere cioè genere molto diciamo così drammatico cupo tinte molto molto sì appunto molto coupe dove personaggi sono più o meno cinici cose così cioè di alla scendler volendo trovare qualcosa del genere sì 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 un po' la same speed non era non era neanche l'obiettivo dall'inizio in quanto come ho detto queste storie le ho create prima di pensare un'antologia poi rivedendole ho capito che c'era qualcosa di comune senza in intenzionalmente quindi mi sembravano adatti a farne una una raccolta scusa se ti interrompo come tanti ragazzi alla fine disegni e scrivi per te stesso conosciamo tanti pure che fanno parte dell'associazione che magari sono ancora un po' resti o timidi ad aprirsi però tu sei fatto il passaggio e ti sei buttato però ti sei buttato con una pubblicazione quindi è una bella anche se sono quattro storie però è impegnativa come come cosa sì 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 mi piace anche scrivere le mie storie quindi mi piace ecco trovare ispirazione in quello che vedo in quello che ascolto e poi buttarci giù qualche storia quindi sì mi piace anche quel proprio quel processo nella creazione del fumetto quello che consiglio sempre eh agli autori magari all'inizio non fate consiglio sempre magari sbagliando chiaramente non fate da soli tutto da soli magari provate con dei collettivi così condividete la fatica le passioni il rischio eventualmente di fare una pubblicazione tu invece non c'hai proprio pensato a un collettivo ce ne sono tanti molti li abbiamo anche ospitati noi su questo stesso canale l'idea di un collettivo condividere sì in realtà eh non non ho non decido a priori di non partecipare a collettivi anzi mi piace condividere passioni progetti eh probabilmente quando le ho scritte non non era facile come oggi forse a per esempio la realtà dello scaraboccatore qualcosa di nuovo per me è bellissimo che prima non esisteva quindi entrare in contatto anche tramite social con altre persone per progetti è una una bellissima esperienza anzi ehm sarà anche per il fatto che quando ero da quando ero piccolo sempre disegnato sempre da solo non avevo altri amici con cui condividere questa passione quindi magari questo mi ha portato anche a a farlo da solo però diciamolo lo scaraboccatore è utile bravo hai detto bene una bella realtà è una bellissima realtà non credo che ci sia niente del genere bravo diciamolo bravo anche questo dieci punti bravo poi io che mi trovo in questo momento all'estero in slovacchia c'è una c'è pochissima cultura del fumetto direi vabbè un paese come diciamo non so non lo so neanche come è vissuto là il fumetto non è proprio non è vissuto non è vissuto diciamo questa cosa però che adesso stai in un'associazione può essere interessante a te ti piacerebbe condividere nel senso disegnare soli altri o scrivere soli per altri potrebbe essere a noi spiriti potrebbe piacere io sono sempre per migliorare quindi qualsiasi progetto sul fumetto tendenzialmente lo accetterei cioè mi piacerebbe comunque partecipare ovviamente per per esserci al cento per cento di mi deve piacere in qualche modo questo mi sembra il minimo sì però sì mi piacerebbe sicuramente quindi diciamo di base sei disponibile a confrontarti quindi se qualcuno è interessato lo diciamo anche durante la live ti può contattare privatamente purché il nostro associato e si intende sì certo quindi può condividere anche parte del percorso per adesso ritornando al forno ar che il fumetto in realtà come giustamente è fatto notare forse non si potrebbe definire un graphic novel perché sono quattro storie normalmente i graphic novel tendono ad essere un'unica storia lunga a te sono quattro un'antologia di quattro storie però chiaramente graphic novel è un etichetta commerciale è un fumetto tutto sommato come come tutti possiamo entrare nel merito detto che sono tutte storie un po alla chandler volendo trovare un 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 diciamo un riferimento ma puoi raccontarci storia per storia più o meno senza dire il finale di che si tratta sì posso provare a spiegare un po l'incipit di ogni storia sì praticamente la la prima la storia è comincia semplicemente con un uomo che è solo in un pub solo con un boccale di birra immagino no 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 scusate è un bicchiere di whisky è praticamente sembra un po estragnato whisky è più generale effettivamente si sia appunto è un po estragnato un po per i fatti suoi come se si trovasse in un altro posto da lì nascono poi dei flashback che fanno capire il perché si trovi lì e cosa sto aspettando infatti si chiama l'attesa il primo racconto il secondo nasce come quasi una storia romantica nel senso che c'è una ragazza che torna dal suo ex ragazzo e ripercorrono insieme la loro storia anche questo quindi giocato un po sui flashback però poi cambia però non non lo voglio dire per non spoilerare la storia però sì ecco cambia un po genere verso qualcosa più vicino al thriller la terza è anche questo è giocato un po sulla sul cambio di genere comincia anche questa come una una storia romantica dove c'è un uomo in casa che va una ragazza a fargli visita e non si capisce bene all'inizio perché sembra quasi che lei voglia tornare da lui mamma c'è qualche qualche ostacolo in mezzo e poi anche qui tramite flashback o sto realizzando adesso che i flashback sono ricorrenti nelle prime tre storie si capisce il vero motivo per cui lei si trova lì in quell'appartamento con lui e poi quindi la quarta storia ruota intorno a un incidente stradale dove praticamente ci sono due amici uno dei due ha un incidente stradale e l'altro cerca di aiutarlo a un po diciamo così tirarlo fuori della situazione però c'è anche una ragazza in mezzo e quindi c'è una situazione un po complicata dove qualcuno fa un po il doppio gioco non fa quello che dovrebbe ci sono sempre problemi quando ci sono le ragazze in mezzo va bene ne abbiamo parlato tanto tu hai il volume là ce lo sfogliamo un po insieme ti metto in prima visione sì e tu ce lo sfogli e ce ne parli davanti è tutto in bianco e nero giusto correcci mi no no in realtà sono quattro tre quattro storie hanno un genere diverso quindi non so se questo è il primo è virato virato in giallo più o meno sì un giallo ognolo sì sì un seppia più o meno un seppia sì questa è la prima questa è la prima magari l'attesa giusto anche qui il flashback è sempre l'attesa il flashback l'ho fatto con un blu dominante hai cambiato la colorazione del flashback sì sì mentre quello in bianco e nero il secondo un po più alla bonelli direi ma la di land dog con ombre net magari scendo qualche pagina che non faccio vedere troppo questo è sempre il secondo giusto sempre il secondo sì sì ok questo sembra un po clean this wood non so se è voluta no però sì quegli occhi stretti sembrano un po alla clean this wood questo è il terzo il terzo si intitola il terzo è un punto di non ritorno a questo è colorato normale diciamo sì questo è normale sì tutto fatto da te colori e disegni giusto sì ok anche l'ultima ah questo mi piace è virato però questa è l'ultima sono state fatte più o meno nello stesso periodo nell'arco di un paio di anni ah quindi va bene due anni sono sono tanti insomma quindi hai maturato pure il segno in questi anni sì in realtà le storie avevo già scritte tre anni fa avevo anche cominciato a disegnarle però poi ho fatto un processo di riediting di tutti i disegni tavola per tavola perché riguardando quei disegni secondo me non era il caso di pubblicarli con quello stato mi ha molto aiutato Gianluca Testaverde nell'opera di editing infatti lui mi ha incoraggiato inizio a ridisegnare le tavole quindi Gianluca Testaverde per esempio sta in un collettivo sta in un collettivo e fanno parte anche loro della nostra associazione non so se ti hanno consigliato loro di entrare nello scarabocchiatore non ricordo se sono se è stato Gianluca inizialmente però onestamente non ricordo forse semplicemente da Facebook ho cominciato a seguire la pagina sì però ecco appunto ho ridisegnato tutte le tavole così ho affinato anche un po' il segno e il disegno in generale infatti magari una cosa che magari può essere un po' interessante che nelle ultime pagine di solito vengono mostrate un po' di dietro le quinti di come si passa dalla bozza al definitivo io ho piuttosto fatto un'opera di confronto tra com'era una tavola che avevo disegnato tre anni fa e quella che ho fatto poi bella, le possiamo vedere? sì ti ingrandisco bella cosa, un'idea intelligente per esempio prima, dopo cambia anche un po' la regia sì sì infatti in alcuni casi ho addirittura cambiato la regia delle tavole prima, dopo, bellissimo qui per esempio ho messo solo una è l'ultima ah bella, mi piace la mia idea questa la consiglio, te la rubo perché l'idea è interessante è un'idea che si può portare anche ad altri perché è simpatica come si dà intuizione chiaramente nel tuo caso è stato reso possibile dal fatto che l'hai ridisegnato praticamente tutto sì sì infatti quindi insomma è anche impegnativo da fare no infatti non auguro a nessuno di farlo in realtà ma l'hai ridisegnato tutto perché te l'ha consigliato Gianluca perché ti sei reso conto tu che non era fattibile come mai? allora credo che sia nato prima da Gianluca nel senso io ho fatto vedere l'opera finita ha visto i disegni, ha visto probabilmente il potenziale delle storie però mi ha detto che andava un po' rivisto e quindi sì a quel punto e quando poi ho cominciato a ridisegnarle mi sono accorto della differenza e allora poi ho cambiato tutto ha cambiato la testatura sì perché magari l'idea iniziale era non di stravolgere tutto ma solo di correggere alcune tavole che mi sembravano diciamo così le peggiori però poi nel momento in cui andavo a ridisegnare ero più spinto a poi a cambiare anche le altre in alcuni casi anche la regia come hai fatto notare quindi era nata solo per un rifacimento di alcune tavole sì 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 poi dopo ti sei trovato facendo e hai detto vuoi sapere? facciamo tutto sì perché non ero più contento di quello che avevo fatto prima ma oggi guardandolo rifaresti ancora qualcosa? perché si dice che l'insegnatore diciamo non vuole sempre cambiare cambia, cambia ho conosciuto tanti così ma oggi tu guardandolo lo rifaresti l'innissima volta? alcune cose mi piacciono altre cose le cambierei sì è inevitabile credo però forse per me in particolare che recentemente cioè recentemente intendo negli ultimi cinque anni ho ripreso decisamente a disegnare quindi magari il tratto è anche più in evoluzione anche in tempi brevi e quindi se anche vedo una tavola che ho fatto qualche mese fa oggi non mi piace più probabilmente sì sì questo hai detto bene perché magari esercitando di tanto adesso il tuo tratto sta cambiando tanto in poco tempo immagino sì 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 quindi è un'esservazione giusta io un consiglio che do sempre a tutti a parte quello di disegnare sempre perché così come hai detto tu si migliora anche di vedere i nostri programmi nel salotto facciamo anche dei live tutorial con autori autori nostri associati che danno consigli e spiegano come fare delle cose che magari possono essere da input pure per chi è autodidatta come te o chi vuole perfezionarsi possono servire da degli input le chiamano proprio live tutorial quindi può essere interessante ritornando al tuo Fornoir la cosa interessante è che è disponibile su Amazon perché è nato su Amazon giusto? sì in realtà per molto tempo ero indeciso come pubblicarlo però la soluzione di Amazon mi sembrava quella più immediata quella più facile quindi ho optato per l'autopubblicazione sì 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 quindi l'ho pubblicato su Amazon per ora solo cartaceo c'è anche l'opzione di pubblicarlo su Kindle però non mi sembrava l'esperienza migliore specialmente per il fumetto secondo me Kindle è più adatto per i libri per gli ebook piuttosto che per i fumetti non dirla a me che io purtroppo riesco a leggere solo su carta quindi poi considerando anche a colori e su Kindle ti restituisce solo il bianco e il nero almeno che io sappia a meno che non ci sia qualche nuova edizione versione di Kindle però dovrebbe essere in bianco e nero avrebbe perso anche i colori quindi sì ho scelto almeno per adesso solo il cartaceo per trovarlo banalmente per trovarlo su Amazon basta che scrivo Leandro caro figlio quattro noir che sarebbe il titolo io suggerisco sì suggerisco di cercare nella categoria nella categoria libri perché ho provato e se scrivo solo for noir non lo trovo non so se è un problema nello strumento di ricerca non ne ho idea però consiglio di andare nella categoria di libri book e sì e poi inserire il nome più il mio nome e cognome andare prima in categoria libri e poi metto quattro noir Leandro caro figlio chiaramente non penso che ci siano tanti autori che hanno fatto quattro noir immagino sarei solo tu Leandro sì 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 così è più facilmente è più facile da trovare sicuramente arriva una domanda che ti volevo fare anche io che è interessante per tutti quegli autori che magari aspirano all'autopubblicazione e magari pensano ad Amazon come hai pensato tu e la domanda sarebbe questa hai trovato difficile utilizzare Amazon per pubblicare che tipo di regole ha che tipo di regole ha se puoi darci una panoramica su questo sistema se ti fa piacere condividere con noi e aiutare magari un ragazzo che vuole fare la stessa cosa sì allora generalmente non è difficile secondo me se si sa quali regole seguire nel senso che bisogna avere presente dall'inizio qual è il formato con cui si vuole pubblicare cosa a cui io non avevo pensato errore che non rifarò mai più nel senso che anche quando non è sicuro con chi voglio pubblicare è meglio avere sempre presente dall'inizio quali sono gli standard per la pubblicazione il formato di stampa Stefano il formato di stampa sì della gabbia i margini bleed cioè bleed praticamente il margine estremo della pagina oltre il quale l'immagine viene tagliata in fase di stampa scusami la curiosità tu quando l'hai disegnato non immaginavi come andasse fatto cioè non ti riposti il problema della stampa cioè no probabilmente da da novizio non ci ho pensato però è una cosa importante sì 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 effettivamente però sì pensavo solo a fare le storie perché non avevo in mente con chi pubblicarlo quindi cambiavo anche i formati della gabbia da storia a storia vabbè questo non è importantissimo perché sono tutte autoconclusive può cambiare da una a un'altra vero però deve esserci un'idea quando la pubblichi a meno di massima di quando la fai a meno di massima di come verrà stampato quindi questo è importante diciamo quindi sì ho dovuto riadattare tutte le pagine per il formato standard di Amazon quindi ecco se si tiene in considerazione dall'inizio le misure ah ti hanno messo il link ringraziamo a Vincenzo dice se è questo ma penso di sì penso di sì guardando il link sarà questo qua quindi ringraziamo lo trovate nei commenti se vuoi ma scusi se ti ho interrompito quindi no non credo lo sto modo e dici che è facile su Amazon tenendo presente alcune cose sì quindi stare attenti al formato della pagina i margini perché cambiano poi a seconda di quante pagine sono e quello è magari qualcosa che non è sempre che non si sa magari dall'inizio però è anche magari anche grosso modo sapere quanti pagine sono perché cambia anche la misura dei margini ma tu non sapevi non sapevi proprio niente neanche quante pagine cioè bella sta cosa sei andata proprio di se proprio buttata bella sì 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 perché sono cambiate tante cose in corso d'opera non sapevo ancora quante all'inizio per esempio non sapevo quante pagine volevo quante storie volevo racchiudere nell'antologia in questo magari se avessi fatto una graphic novel sarebbe stato molto più chiaro perché sarebbe stata una sola storia magari avrei avuto un'idea più precisa di quante pagine però allora Ivan ribattezzato che ci segue ciao Ivan ha detto si chiama e ti dà le misure precise e nel caricare il tutto può darti problemi se non si ha l'accortenza di eliminare tutto ciò che è al di fuori dell'area stampa io ho dovuto risolvere con Illustrator un programma di grafico usando una maschera che elimina tutto ciò che è al di fuori diciamo lui l'ha usato per le sue pubblicazioni detto che effettivamente può darti qualche difficoltà se non hai precisi l'idea un trucchetto che ho scoperto che si può fare è che ogni volta che si carica il pdf perché accettano solo pdf come formato si può sempre vedere un'anteprima un'anteprima a video? sì a video dove puoi sfogliare tutte le pagine e vedere è un percorso obbligatorio quindi comunque devi passare da qui però se sei in dubbio dall'inizio sul formato della pagina per esempio ho caricato tre pagine di fumetto e tutte le altre bianche perché Amazon capisce quante pagine è il tuo libro quindi se pubblichi solo tre pagine ti dice il libro deve essere almeno di 60 pagine o cose del genere però se vuoi avere giusto un'anteprima e capire se stai seguendo il formato giusto allora magari puoi caricare un pdf con solo le prime tre pagine il resto bianche e lui comunque ti fa vedere come come verrà come verrà e quindi se da lì capisci che sta andando bene allora puoi continuare questo è un piccolo trucco che ho seguito per non impazzire perché altrimenti carichi tutte le 100 pagine poi ti accorgi che c'è un problema là un problema là e quindi poi è un po' più difficile ci dice Ivan che nell'anteprima che hai usato tu giustamente ti dice anche se c'è qualche errore e in che pagine quindi è un sistema di controllo è utile quindi sì 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 non so ora onestamente se Amazon quando c'è un problema ti arriva anche una mail in cui ti dice cosa cambiare non so se una mail a volte anche un robot che c'è dietro che ti risponde automaticamente però ti danno indicazioni precise su cosa sistemare quindi in realtà i problemi che hai avuto lui è perché non avevi proprio chiaro di cosa sì è più un problema mio in realtà è stato ecco perché dicevo se hai l'idea chiare dall'inizio e rispetto il formato allora dovrebbe filare tutto liscio carichi il pdf e poi spingi clicchi su pubblica in 72 ore allora mi dicono per sicurezza per controllare se è giusto forse il link è stato caricato e pubblicato il 19 ottobre 2023 sì credo sia corretto quindi giusto così a posto è andato scusami prego allora proseguiamo stiamo parlando di Amazon quindi c'è un'anteprima che ti permette anche di scovare eventuali errori sì 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 il problema più grosso in realtà l'ho avuto per la copertina perché lì ovviamente l'immagine deve andare fino ai bordi e quindi deve essere sicuro che tutto insomma le parti importanti rientrino non vengono tagliate ovviamente la mi sono la fai rivedere la copertina che non mi ricordo sì ah ecco ah beh queste non le hai fatte non le hai disegnate praticamente solo di queste di base no no l'ho disegnata in realtà è una è un attimo sarebbe la copertina dell'ultima storia questa qui ah ok mi sembrava talmente semplice scusami pensavo è il disegno ok sì ovviamente anche dietro bisogna lasciare lo spazio e tutto il resto per il codice a barre pure per tutto sì sì che Amazon te lo dà direttamente a meno che non hai il tuo direttamente quindi eh sì tutto qui io ho scaricato un template della copertina di Amazon quindi ho in questo modo ho calcolato bene dove lasciare spazi però qualche problema c'è stato comunque in realtà queste cose se facevi magari dei corsi di fumetto te li avrebbero spiegato perché spiegano come rendere la stampa come gestire la stampa anche che l'opera la parte finale di un sì sì però tutta la parte che riguarda la pubblicazione era è stato qualcosa completamente di nuovo per me di nuovo che nessuno ti ha dato perché l'hai fatto da solo praticamente nessuno ti ha dato delle dritte come magari stai facendo tu adesso per chi ci seguirà sì sì sicuramente sarà utile per il futuro scusate per curiosità se non sono indiscreto dal punto di vista economico invece quanto ti è costato usare Amazon oppure come funziona se posso chiedere se non siamo troppo indiscreti no assolutamente anzi questa è una una dei punti delle ragioni per cui ho scelto Amazon anche e cioè che non ha nessun ma poi ci dicono sempre Ivan dicono il problema è che Amazon è un po' troppo rigido praticamente è troppo rigido penso sulle cose sue ci sono dei pro e contro ovviamente di pubblicare su Amazon la cosa buona è che non non ha dei costi nel senso quindi non si paga niente non si paga niente è un servizio on demand quindi quando qualcuno fa un ordine allora Amazon prende il 60% che includi anche se non sbaglio le spese di di spedizione per la stampa e anche di spedizione sì certo e quindi poi il resto sono le royalty quindi costa il 60% però solo di quello che si vende quindi non hai dovuto anticipare nulla giusto? esatto quindi loro non hanno Amazon non ha uno stock di non lo so 20 libri che tengono lì finché vengono venduti te lo stampa a momento sì 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 esatto quindi questo come prima pubblicazione secondo me è ottima come soluzione esatto il 60% ci hanno confermato quindi che si trattiene dalla vendita quindi alla fine per i ragazzi questa è un'ottima soluzione perché voi non pagate niente rispetto ad andare in una tipografia dove dovresti pagare la stampa questo è appannaggio della vendita di Amazon giusto? sì sì esatto quindi è molto semplice come meccanismo ovviamente come per tutte le autopubblicazioni poi tutta l'opera di marketing di pubblici è tutta tua nel senso non c'è una una casa editrice che ti promuove l'opera però sì comunque ripeto in realtà quello che ti manca è l'editing perché nessuno te l'ha controllato prima chiaramente anche anche esatto cioè Amazon si preoccupa che rispetti la gabbia i margini però il contenuto non c'è nessuno che ti dice se hai sbagliato se c'è un refuso o qualsiasi cosa sì questa pure è una cosa insomma limitante il fatto che non ci sia un editing di nessun tipo e poi chiaramente come dicevi tu tutto il reparto marketing sei tu praticamente una cosa anche da far notare è che se c'è un refuso c'è qualcosa da cambiare nella pubblicazione si può sempre fare loro te lo ricontrollano cioè Amazon ti ricontrolla il libro e dal momento in cui lo pubblica dall'ordine successivo esce con la nuova versione che hai fatto quindi se c'è un un errore che è noti magari all'ultimo momento non è mai troppo tardi perché puoi sempre rifare tutto il percorso però più velocemente cioè puoi puoi riallegare il file loro lo ricontrollano entro 72 ore però di solito quando lo ricontrollano avviene più velocemente quindi se anche ti accorgi in un secondo momento ti chiamo io dico guarda Leandro ci sta un problema un refuso tu lo correggi lo mandi alla Amazon e lui per le prossime copie ha corretto sì mi sembra interessante questa riguarda qualche altra osservazione da Vincenzo Basile 60% sembra buono gestiscono la pubblicazione di SBN nell'ordine con spedizione eccetera eccetera e diciamo alla fine si prendono anche tutte le rogne si potrebbe dire comunque ti dà la possibilità di stampare in diverse modalità cartonato normale una domanda che ti fanno è ma quali sono i punti critici il lato negativo qual è a fronte di tutti questi vantaggi ci sono lati negativi hai detto pure che è un po' rigido come sistema ma chiaramente ci stanno anche penso anche altri lati negativi come hai fatto notare anche tu non c'è nessuno che ti controlli i contenuti quindi tutto l'editing che non è un processo così semplice perché non devi guardare solo i disegni e tutto quanto ma devi anche ricontrollare parole per parola ed escono possono uscire fuori anche molti errori che magari non hai fatto caso nel momento in cui si disegna altri punti critici come ho detto la pubblicizzazione dell'opera marketing a tuo onere possiamo dire sì come opera prima non è così facile avere visibilità soprattutto su Amazon che è il mercato più grande online quindi assolutamente non è così facile mentre un normale editore ti dà quella visibilità necessaria un minimo ti aiuta vabbè quindi Vincenzo conclude quindi i problemi sono legati a mancanza di editor come abbiamo detto e alla mancanza di un marketing e le cose che abbiamo detto per il resto si potrebbe dire come Ivan dice che è comodo comunque il fatto di poter correggere anche in un secondo momento diciamo un sistema interessante tutto sommato arriva un'altra domanda di Vincenzo forse riguardo a Amazon una domanda stupita ma il bordo delle pagine si possono modificare cioè se io scrivessi una storia dell'horror e volessi dare un tono alla mia pubblicazione c'è la possibilità di colorare il nero o magari di rosso i tre bordi delle pagine sopra avanti cioè praticamente dice può cambiare a suo piatto penso di sì credo di sì 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 può assolutamente cioè tu mandi il tuo pdf poi insomma non è un problema di quello che ci sta dietro immagina sì 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 quindi il contenuto è tutto appannaggio quello che si preoccupa Amazon è semplicemente il formato di stampa sì avrei una curiosità uscendo un momento dal mondo Amazon una curiosità ma tu hai fatto praticamente delle griglie bonelli a occhio a occhio quello che ho visto sulle sei vignette tre strisce se non mi sbaglio no allora un attimo in realtà cerco di uscire più che posso dalla gabbia bonelli proprio perché sono troppo abituato a quel giorno di fumetto perché quando l'hai sfogliato mi sono capitate tutte strisce mi è sembrato più o meno per esempio ti metto un attimo in grande sì sì non so se per esempio questa qui sì sì si vede è molto più lunga come sono penso sì quattro sì 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 più libera oppure un attimo solo non so tipo questa mi sembra più da da fumetto americano con le gabbie molto più verticali più ah quindi in realtà tu hai una griglia più libera sì 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 quella che ho voluto fare più simile alla bonelli che è stato il racconto quello in bianco e nero che hai volutamente fatto un omaggio alla bonelli diciamo così sì per esempio ecco questa forse può essere considerata una griglia alla bonelli questa sì sì però sì in realtà in queste storie ho cercato anche di cambiare lo stile della gabbia del disegno in tutte le storie ho voluto sperimentare diversi stili allora c'era una domanda che ti volevo fare recuperandola da prima che arriva da prima ma no stiamo su un altro argomento che è interessante puoi chiedere dicono a me quale genere gli piacerebbe provare che non ha mai fatto e se c'è un genere che proprio non fa per lui grazie allora il genere chiaramente tu questi sono noir immagino che forse il noir è il tuo preferito ma quello che non hai mai fatto è che proprio schifi oppure uno che vuoi provare a tutti i costi allora uno anche sicuramente voglio provare ho già provato però vorrei provare di più è un genere più cartoon nel senso fantasy sì esatto sì un fantasy un fantasy sì qualcosa meno realistico più di fantasia ma anche più colorato nelle gabbie un po' più appariscente diciamo così uno che forse non non so se non proverei ma sicuramente solo a pensarci mi vengono i brividi è la fantascienza ah quindi fantasy sì fantascienza no fantascienza tecnologica immagino ma questa è tipo la Nathan Neve rimanendo in tema Bonelli per me sarebbe estremamente complicato per per i dettagli dei disegni invece rimanendo in tema Bonelli preferiresti Dragonero che è un'opera fantasy non so se la conosci se ti sarebbe più congegnato sì sì quello mi piacerebbe molto ok non ho mai scritto niente di fantasy però sì l'idea di magari creare un questo è un tormentone che chiedono sempre ai nostri ospiti ma un bel mecha tipo magazine zeta o Gundam ok questo non ce l'ho proprio pensato però questo questo strizza all'occhio un po' la fantascienza diciamolo sì potrebbe pericolosamente deviare verso la fantascienza non che non vorrei mai provare dico sempre perché come genere a me piace molto la fantascienza solo che lo reputo molto complesso da da realizzare in realtà noi spesso pure Vincenzo che ha fatto la domanda siamo Gold Racky Generation tu sei più giovane quindi forse se l'hai vissuta in maniera più ma originale questa una cosa interessante questo Ivan è entrato più tardi il fumetto si chiama Four Noirs Quattro Noirs c'è il link nei commenti gentilmente offerto da Roberto ed è autore completo disegni colori testi ha fatto tutto lui pure il codice a barra ha messo lui scherzo il codice a barra è di Amazon è di Amazon sì quindi è autore unico e io ho anche chiesto come gli è venuto di fare come opera prima un'opera unica che è bella tosta e lui ha detto no mi volevo scimentare e l'ha fatto una cosa che una volta disse un autore importante dice come faccio a fare i fumetti e rispose lui se li vuoi fare falli e in questo tu sei stato proprio preciso volevi fare e l'hai fatto comunque a finale tu ritorneresti da Amazon cioè sei contento diciamo di questa scelta la consigli? sì sì direi di sì come ho detto è molto semplice una volta che le idee chiare su come pubblicarlo su cosa pubblicare più che altro quindi secondo me conviene fare però un bel progetto iniziale cioè capire questo però conviene in generale capire bene quante tavole il formato di stampa queste cose sono da chiarirsi secondo me a priori sì sì quello che farei adesso per un altro progetto andrei sulla pagina di Amazon dove si vedono tutti i formati di stampa scegliere quello che è più adatto idoneo alla storia che vuoi raccontare perfetto creare un bel template con la gabbia tutte le misure per la pagina e cominciare da lì è così sei proprio a pennello sì allora una cosa che pure mi chiedono sempre è quando disegni tu sei anche disegnatore colorista abbiamo detto scrittura senti musica e che musica queste sono le domande alla Vanity Fair insomma di gossip sì allora in genere ascolto rock però qualche volta forse non so se l'ho fatto intenzionalmente o no però per queste per queste storie ascoltavo più un jazz o un blues mi sembra più idoneo forse queste storie probabilmente effettivamente al noir il jazz ci sta sì sì ci sta tutto no no assolutamente anzi ci sta proprio insomma già la vedo l'ambiente fumoso la sigaretta e il bicchiere di whisky ci sta sì 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 forse ti immerge nell'atmosfera giusta anche io immagino che per fare un genere così caratterizzato tu sei anche un appassionato lettore o quantomeno spettatore di film a tema posso chiederti quali sono stati i tuoi riferimenti visivi di lettura prima abbiamo citato cendere però in generale se hai anche dei fumetti ai quali ti sei ispirato insomma quali sono stati i tuoi modelli per fare una cosa del genere allora io in realtà più che per la lettura sono un grande appassionato di cinema quindi sicuramente ho attento molto ad alcuni film vediamo di noir va bene penso a molti film anni 50 quelli in bianco e nero molti film di Hitchcock roba seria film di Hitchcock film di Orson Welles per esempio molto noir anche quelli tendenzialmente molti film in bianco e nero erano anche noir per la loro caratteristica di sì principalmente questi non lo so per l'ultima storia dell'incidente forse ho pensato anche a qualche film anni 70 però in questo momento onestamente non mi viene niente di particolare in mente però quindi sei basato di più sulla cinematografia vabbè hai detto Hitchcock che è un regista insomma insomma hai detto tutto quindi sei basato di più sui film che sulle letture o su altri fumetti su altri fumetti sì sicuramente però sì anche film ecco per esempio sulla seconda storia come ho detto l'ho voluta fare più stile Bonelli magari ho pensato un po' più a Dylan Dog come stile come stile sì anche le storie di Dylan Dog per quanto a sfondo Oronan ha anche un po' di nuore detective storici stanzo sì sì poi tra l'altro piccola curiosità sull'ultima storia giusto per capire la mia passione per il cinema ci ho basato anche un cortometraggio ho realizzato un cortometraggio sull'ultima storia e dove si può vedere? su YouTube sì sì allora non so potrei scrivere in chat non so sì com'è il titolo? so allora è in inglese da accident 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 sì è l'incidente il canale si chiama Lime Light Media ok l'ho scritto perché altrimenti non è facile da trovare nella marea di cortometraggio vedo se riesco a portarlo su nei commenti quindi quanto dura è un cortometraggio? 15 minuti grosso modo eccolo qua l'ho messo nei commenti ufficiali dell'accidente Lime Light Media quanto hai detto che dura scusami? sì 10 15 minuti molto duro allora siamo quasi al completamento dell'oretta a nostra disposizione volevo chiederti la domanda scomoda che faccio sempre in chiusura preparati scomoda in genere mando in crisi le persone mando la faccia quanto e cosa leggi? ok in generale in questo momento in generale in generale e non soltanto fumetti chiaramente anche libri in generale ok allora di libri a me piacciono molto i polizieschi per esempio sono un grande fan di camilleri gialli polizieschi in questo caso l'italiano hanno messo anche sempre l'ottimo Vincenzo ha messo anche il link così non riesco deve essere questo vabbè una sigla penso che sia questo purtroppo dal link non riesco a capire dovrei non si capisce una sigla questo è il titolo e questo qua l'abbiamo scusato l'intervista dove hai detto camilleri ma il tuo omonimo caro figlio lo leggi che è anche eh sì non è uno dei miei autori preferiti onestamente però non ho letto molto ho letto solo mi sa Testimoni Inconsapevole ad occhi chiusi i primi due dell'avvocato Guerrieri se non sbaglio non lo so non sono un lettore di gialli fumetti recentemente sto riscoprendo Urasawa sto leggendo Pluto che tra l'altro è uscito ora anche la serie su Netflix ho finito di leggere da poco Monster che è un'altra di Urasawa sì mi stanno piacendo molto i manga d'autore sto cercando di recuperare forse hanno hanno caricato Vincenzo ha caricato è lui penso la descrizione è lui è lui grazie sì sì è questo è stato preciso ok scusami quindi dicevi Pluto Urasawa e Monster sì 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 dicevo che sto recuperando un po' di storie di Taniguchi rimanendo in tema manga Giro Taniguchi sì sì che altro molte graphic novel mi piacciono molto le storie complete ecco più che se dovessi dare un consiglio di lettura romanzo o fumetto a un tuo amico ai nostri amici che ci seguono cosa diresti questo leggetevelo assolutamente a parte Fornoir che consiglio io di andare sul link di Amazon lo ordinate possiamo ricordare il costo perché non l'abbiamo detto oddio mi sa 10 euro una decina di euro grosso meno 10 euro 10 euro andate su Amazon e ordinate Fornoir di Leandro caro figlio con gli auguri dello scarabocchiatore vi arriva direttamente a casa come qualsiasi spedizione Amazon 10 euro e 40 ci dicono ma teniamo una precisione un pubblico perché c'è l'iva sono anche tassati quindi non possiamo sbagliarci detto questo a parte Fornoir che consigliamo cosa ci dici un consiglio terzo diciamo ok allora magari rimanendo in tema nel genere di Fornoir ho trovato molto interessante la lettura in inglese The Criminal penso che sia così anche in italiano di Brubaker Ed Brubaker quindi Phillips il disegnatore ah è un fumetto proprio si si ha dei toni molto noir molto molto bello e qual è il titolo scusami me lo ripeti Criminal Criminal si credo credo che sia così anche in italiano ah tu l'hai letto in lingua originale si si perché non era facile da trovare in italiano però penso che non sia un vabbè gli autori sono famosissimi quindi dovrebbe essere facile recuperarlo quindi da il consiglio di Leandro Garofchio prima andate su Amazon e prendete Fornoir autore completo come abbiamo detto fin dall'inizio ha fatto i disegni i testi i colori il ragazzo si è impegnato ha fatto quasi totale compreso le copertine tutto arriva una centinaia di pagine quindi sono quattro storie un'antrologia di quattro storie da Fornoir il titolo chiaramente si intuisce che sono di genere noir quindi hanno una griglia libera alcune sono Bonelli altre più americane i gianti vi consiglio di prenderlo fatto questo poi lui vi consiglia Criminal di Ed Bruebecker e di senatore Phillips se ho capito bene quindi voglio dire tutto da leggere sia Fornoir che Criminal per tornare a noi il prossimo progetto è chiuso questo chiaramente lo sta cercando di pubblicizzare ovviamente noi cercheremo come associazione di darti una mano progetti futuri nell'immediato Allora ho un paio di idee però sono un po' da rivedere immagino uno è un progetto che avevo già pensato da qualche annetto anche questo dovrebbe essere più una storia gangster però dai toni più satirici sì al momento in realtà starei collaborando con con degli amici su delle strisce a fumetti che è un per esempio un formato che non ho mai fatto e che voglio anche provare a cimentarmi quindi a breve dovremo pubblicare le prime strisce le pubblicate sul web o avete qualche credo che lo pubblicheremo su una pagina web specifica ah ok allora quando sarà non ti dimenticare di mandarci il link lo promuoviamo e ce le leggiamo saranno strisce satiriche comiche di solito le strisce tendono a essere di genere umoristico sì 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 sono di genere umoristico sì sì quindi se hai capito che è meglio un collettivo ecco sì ecco questa è la dimostrazione che sì mi piace mi piacerebbe anche collaborare per qualche progetto in gruppo ok allora abbiamo presentato oggi Fornoir abbiamo fatto la nostra classica oretta se qualcuno vuole le hanno le a disposizione anche per ascoltare i progetti sia come disegnatore che come sceneggiatore perché lui è un autore a tutto tondo giusto quindi ti farebbe piacere collaborare su progetti nuovi giusto sì 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 assolutamente per il resto vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti che li vedo dal calendario 20 allora domani abbiamo disegnando con Stefano Cardoselli che è un autore quindi vi consiglio di vederlo alle 21 di sera in prima serata ci sarà disegnando con Stefano Cardoselli che sicuramente merita è un autore che merita e poi invece all'ora del tè mercoledì questa volta veramente all'ora del tè quindi alle 5 ci sarò io con Val Romeo la disegnatrice Bonelli che penso bene o male tutti conosciamo quindi non mancate vi aspettiamo alle prossime live salutando ci chiedo Leandro vuoi aggiungere qualcosa? no no direi che sì abbiamo abbiamo detto il discosore sì sì momenti salienti allora stanno arrivando i saluti io ringrazio chi ci ha seguito chi ha commentato chi ci ha aiutato stando a casa per questa live questa live sarà disponibile chiaramente oltre che sulla pagina anche adesso verrà caricata indifferita la puntata registrata sulla pagina youtube dello scarabocchiatore quindi sarà sempre a disposizione per il resto ringrazio Leandro che ha accettato di fare questa chiacchierata con me con noi tutti gli auguro in bocca al lupo per il suo volume e per il futuro alla prossima grazie a tutti grazie a voi grazie